Ciao tesori, sono in compagnia di Lollina e di Prevedina perché oggi ho un mucchietto di letterine già aperte sono quelle letterine diciamo un po' più sottili che contengono i vostri disegnini e le ho già sistemate in modo che le posso aprire, ne posso aprire tante e farvi vedere tantissimi dei vostri disegni ci siamo anche noi di disegni? assolutamente sì, ovviamente Lollina e qua c'è anche una scatola piuttosto interessante che ci ha dato Matilde allora io partirei da questo primo pacchettino dovrebbe stare in una letterina, guardate quant'era bellina questa era la busta e viene da Roma e ce la manda Viola, sono una vostra grandissima fan, sono venuta al Romics il 7 aprile e il 5 ottobre che carina quanto è, che bello quando mi tornate a trovare, sono sempre molto contenta vi ricordate di me? Ditemelo in un video della posta di Babucciano e eccoti, sei qua ho due domande da farvi leggere questa letterina leggerai questa letterina in un video? assolutamente sì, è stata pure la prima letterina potreste aprire una busta color argento scintillante se è tra i regali del Romics sappi che ho ancora una scatola quindi ho ancora dei pacchettini, ovviamente io li alterno gli eventi quindi apro un po' di questo, un po' di quello, un po' di quell'altro piano piano, alla fine apro tutto sempre però in modo che altrimenti non mi si accumulano nel tempo alcuni eventi ho finito alcuni scatoloni vedrai che presto vedrai aperto pure il tuo pacchettino se non l'ho già aperto poi c'è un vestitino molto carino Barbara, Lele, Lara c'è scritto Massimiliano ma il papà si chiama Emiliano sì, resta che ho quanto scrivete ancora di saccottino ciccetto che non c'è più però grazie perché lo ricordate sempre poi ci sono tre figurine delle gorgeous bellissime e una carta di Pokémon per Lele quindi ti ringrazio via la bella letterina vedete che riuscite anche in una busta piccola a mettere dentro un sacco d'amore quest'altra letterina dice viva il TP Team e dietro A per Barbara e Lara da Viola forse era della letterina precedente può essere? ma ho solo due viole Barbara e Lara l'ho già capito da Viola ma sono due letterine diverse mi fa troppo ridere Zira soprattutto nel video in cui le facevate il bagno su Mega Wow spero che si scriva così Zira sì sì, è giustissimo Zira si scrive con TS bravissima poi qui c'è un disegno e un'altra bustina questo vi faccio vedere anche la busta perché guardate che carina sulla busta c'è scritto vi voglio bene che carina è una letterina che ci arriva da Padova e vediamo chi ce la manda questo è il selfie con Babu sono io e là sentite l'aereo niente non c'è niente da fare ma è cronometrato penso di sì Lollina uffa è andato via? no eh vabbè allora no sì sì è andato via allora ha messo lei con la sua mamma Lara e me e vediamo chi la scrive è Asia ciao Barbara Lara sono Asia 7 anni vivo a Roma all'evento del 14 luglio non posso venire perché ho un pranzo dalla zia ma vorrei incontrarvi dal vivo beh se sei a Roma magari ci vedremo al Romics uno dei prossimi Romics insomma comunque probabilmente faremo anche delle fiere su Roma degli eventi su Roma prima o poi quindi non ti preoccupare che ci sarà sicuramente modo di vederci fate altri slime e altri scherzi su Mega Wow magari sì sicuramente sì perché Epi si diverte un sacco con i nostri scherzi vedo che anche voi quindi sì vi adoro posso essere amica di Lara un bacio Asia vorrei che questa lettera sia letta da Lara eh Lara in questo momento non c'è però te la chiamo Larina c'è Asia che voleva che tu leggessi la tua letterina quindi salutala ciao Asia ecco almeno ti ha dato il tuo saluto insomma l'ho letta io perché avevo cominciato a leggerla io però insomma ti saluta tantissimo anche Lara altra letterina eccola qua Eleonora ci dice che a 9 anni e 40 lol seguo tutti i vostri video e quelli di GBR siete le mie youtuber preferite vi adoro da quando facevate video pop surprise ah i video pop surprise li facciamo ancora cioè da quando li facciamo comunque sempre che cosa c'è Lollina? eh hai sentito? hai letto? che cosa? che lei guarda noi e GBR eh sì è normale anche noi anche tu guardi GBR appunto e loro hanno aperto il glamper quello vero e quindi? e noi quello poraccio ma Lollina non avevi detto che ti piaceva tanto? sì in effetti mi piace tanto lo stesso però pure quello vero è bellissimo quindi che fai? vuoi andare a vivere da loro? no vabbè rimarrò con voi per questa volta che cosa c'è? niente sospiro basta Lollina va bene ciao e c'è questo bellissimo intanto salutiamo GBR che ha aperto veramente il glamper quindi se volete vedere quello vero andate su quel canale se invece volete vedere il glamper quello poraccio Lollina basta e andate nel canale Barbara Alessandro perché abbiamo customizzato un camper che secondo me è venuto benissimo e Lollina non dire bugie è bellissimo vero? sì in effetti è proprio bello perché ci siamo io e panchino sopra ecco vi dicevo c'è anche il disegnino di Alice guardate come l'ha fatto bellino e quindi grazie alla nostra Eleonora per questa letterina poi c'è un'altra letterina qui questa è la busta e questo è il disegnino guardate mi sa che una bimba piccina perché è tutto pieno di disegnini ecco e scrive Emma in stampatello guardate che brava guarda dietro ha messo tutto 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 c'è anche Stella dove è la mortadella insomma tutti quanti i nostri personaccini da quest'altra parte c'è lei c'è Alice e poi la mia preferita è Alice quindi ha fatto il selfie con Alice mi pare ovvio Alice dove sei? non lo so parli e non sai dove sei? appunto no sono quella del disegno ah sei tu che parli? eh sì esatto ok fantastico passiamo alla nostra scatola pack surprise questa c'è stata data da Matilde la andiamo ad aprire c'è qualcosa qua e dentro contiene un sacco di cose una maria di regali allora qui c'è la letterina e qui ci sono una maria di palline tipo emoji queste si mettono penso sopra le matite c'è un peluscino c'è un arzacchiotto che fa le bolliche con le pieno di Orbitz uno spinner creazione mia creazione con mio zio che cosa avete architettato di questo zio? ma che genio è una lumachina però è stato sostituito è il guscio di una chiocciolina vero e la lumachina è un pezzettino di legno tutto ha lavorato ma che bella è un'opera d'arte grazie ringrazio a tu zio perché è un regalo bellissimo e adesso mi apro questa letterina che ha un sacco di scorce quindi adesso farò tipo ecco fatto aperta in ogni istante adesso andiamo a vedere che cosa c'è dentro oh che carina ciao Barbara e Lara mi chiamo Matilde ho dieci anni e vivo a Milano vi voglio un mondo di bene e vorrei essere salutata da Alice eccomi ma Alice è nell'aria non so perché Lollina eccomi qua e Punk Boy non c'è dove è andato? a fare la spesa ma poverino l'hai mandato da solo eh sì mi serviva il latte un po' di cose la crema pandistella la nutella tutti dolci eh sì ho fame in questo periodo è andato volentieri no l'ho frustato ma Lollina non si fa eh vabbè ma mi servivano vabbè Lollina ok e qua c'è il disegnino di appunto la peste insieme a Panchino che qui le fa le fa il cuoricino con la mano cioè guardate quanto amore ha questo ragazzo per lei anche se lei lo tortura mandandola a fare la spesa e poi c'è una Lollina che sbuca ah no è un Alice che sbuca dicendo e poi c'è qualcosa che non si vede ma è Stella che dice ho tanta fame Matilde ti voglio beh ma Lollina dove è andata in giro ma tutto questo spazio è fatto ma avete visto si è mossa ma che cosa strana ragazzi ok grazie per aver visto tutta questa carrellata di letterine e questo bellissimo pack di Matilde grazie pure perché ci sono c'è un dado utilissimo ah c'è un'altra scusate io sono curiosa non so voi ma io sono sempre troppo curiosa ci sono anche gli altri due pacchettini io li apro al volo Barbara cos'è oh la pezzettina per pulire gli occhiali e qui c'è una cosa microscopica Lollina si questo è per te lo apri ciao andata via così vabbè ragazzi quindi arrivata Zira che cosa vuoi arrivata Zira qui sotto perché pensa che ci siano le palline si è pieno di palline ma non te le do no ragazzi grazie per aver visto quest'altra puntata della posta continuate a seguirci perché in tutto il mese di agosto troverete in questo canale della posta i video quello che lo scrivo su nella galleria in alto così vedrete quando c'è la programmazione ma vedrete i nostri video ogni lunedì giovedì e sabato così in modo da praticamente darvi video in cadenza tra il canale di Barbara D'Alessandro e il canale della posta così alterneremo i video vedrete sempre ogni giorno un contenuto ma appunto possiamo rilassarci un po' e vado un po' in vacanza perché sono un pochino stanca vi programmerò dei video tutti i giorni ma alternando i canali quindi mi raccomando dovete essere iscritti al canale della posta perché è importantissimo e qui guardate vi saluta pure l'impicciona cosa vuoi? una pallina non c'era una pallina in questo pacco perché? perché non ci sono sempre palline ne hai mille aprine ancora va bene adesso avrò altri pack surprise da piazzare in un altro giorno e mi dai la pallina va bene saluta ciao ciao ragazzi